Ancora alte colonne di fumo visibili a molti chilometri in linea d'aria della discarica abusiva andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica scorsa. Un rogo quasi sicuramente dolosa in zona a Colle Marconi sulla strada provinciale che collega Chieti a casa l'incontrada interrotta da più di un anno a causa di una frana. Nella discarica rifiuti di ogni genere come pile, bidoni con sostanze probabilmente tossiche, ecoballe, rifiuti industriali e anche materiale cartaceo e documenti. È grave perché ieri abbiamo dovuto andare qua, oggi puzza come l'era, qua sotto non si può stare per la puzza. E adesso come intendete andare avanti? Non lo so che soluzioni stanno prendendo, cosa devono fare, però qua ci sono pure gli animali, c'ho i cani, c'ho le galline e vi dicendo se le devo lasciare fuori le volpe, non so che dirvi, guarda, non c'è soluzione forse. Il rischio di inquinamento è davvero fortissimo. È forte perché pozza tutte le parti, ma pozza, pozza, non si può stare, non si può respirare, neanche con l'aria condizionata ora si sta bene dentro casa, perché si è sfiata. Quest'altro signore invece ha un ristorante qui nella zona, ci diceva prima, strada chiusa, interrotta, adesso anche quest'altro, insomma, al danno anche la beffa. No, dopo due anni di strada chiusa senza motivo perché era percorribile, adesso dobbiamo subire anche questa situazione qua. C'è molta prensione sicuramente perché lei ha un locale, quindi insomma la gente adesso ha paura. No, non è la prensione, siamo noi che il nostro lavoro, prima la strada e poi questi incendi, diciamo che è sceso nel 95%, tutto qua. Ringraziamo la provincia, chi dobbiamo ringraziare. Sul posto squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro, ma al momento la situazione è sotto controllo. A parte l'odore acre e maleodorante dei rifiuti bruciati e della colonna di fumo che sale ancora alta nel cielo.